Una proposta di legge di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza per una collaborazione tra l'Assemblea regionale della Toscana e altre assemblee regionali ma anche nel mondo. Sì, finora le relazioni internazionali che sono una materia che la Costituzione definisce per lo Stato ma con ruoli importanti anche per le regioni, finora il Consiglio regionale sostanzialmente non l'aveva affrontato se non per visite e incontri di convenevoli. Questo negli ultimi anni, in passato in realtà vi erano state iniziative ma poi si era seguita un po' questa scelta. Quello che io ritengo invece opportuno è che nell'ambito del rispetto delle competenze fra Giunta e Consiglio vi sia la possibilità per il Consiglio regionale di sviluppare rapporti internazionali. Rapporti che siano dedicati all'identità e alla cultura di legami che si creano ma anche a possibilità di scambi da un punto di vista economico e sociale. Ecco perché il nome di questi legami non sarà gemellaggi come si usa il termine per i comuni, ma sarà invece un termine che significa molto nella Toscana del XIII e XIV secolo. I legati. Allora con un legato si stringevano relazioni e accordi fra le città della Toscana in una fase in cui si superava il feudalesimo e si arrivava ai liberi comuni e poi allo sviluppo della Toscana moderna. Quindi questa legge conterrà le caratteristiche per legati di amicizia e per legati di cooperazione. I primi con un carattere più identitario e culturale, i secondi con un carattere più economico e sociale. Cosa significa? Spese? Dirà il cittadino. Assolutamente no. Significa creare quelle condizioni perché il nostro sistema culturale, economico e sociale abbia dei rapporti privilegiati con realtà che nel mondo vogliono vivere questo legame con la Toscana. Il primo sarà un rapporto che instaureremo, vedremo se firmare subito il legato, con la delegazione della Duma di Mosca, l'assemblea rappresentativa della città moscovita che è espressiva di 10 milioni di persone, la Toscana è 3 milioni e 700 mila abitanti, verrà il 9, 10 e 11 marzo. Noi riteniamo che, ad esempio, in questo caso si tratti di un legato di amicizia particolarmente importante in una fase in cui c'è da scongelare i rapporti, soprattutto per il sistema economico toscano e il mondo dell'Est. Contemporaneamente abbiamo già parlato con il sindaco di Reims che ci fa da tramite nei confronti della nuova regione. La Francia ha costituito ora le macro-regioni, da 21 sono passate a 14 e Reims che ha già il suo gemellaggio con la città di Firenze, il più antico con la città di Firenze, ora fa parte di una regione che è la regione dello Champagne e della Lorena. E voi capite come la regione della Lorena possa trovare un legato di amicizia naturale con la Toscana. Contemporaneamente una Lorena che oggi è aggregata nella regione dello Champagne e quindi rapporti all'insegna del vino, come abbiamo in questi giorni parlato, sia alla festa per i 300 anni della delimitazione dei confini del Chianti e alla festa dei 50 anni nel brevetto che viene consentito alla Vernaccia. E poi una ulteriore prospettiva può esserci con il rinnovo di un legame che c'era ma non codificato come legato, che è quello con la regione del Govetto Naturato di Chioto in Giappone, dove l'anno scorso hanno festeggiato 50 anni di gemellaggio con Firenze, ma che da 10 anni è legata anche alla regione toscana. Allora fu un memorandum, ora potremmo articolarlo in legato di cooperazione.